Finché l'aritmetica non ci condanna, dobbiamo sperare. Parole e musica di Zenec Zeman, neotecnico del Pescara e concorrente diretto del Palermo nella Corsa Salvezza. Il tecnico degli abruzzesi parla di possibilità, come è accaduto già a Lopez al momento del suo insediamento sulla panchina rosa-nero. Deve crederci il tecnico e devono crederci i giocatori, club e tifosi, anche solo per opportunismo o per onorare mentalmente il campionato, fin dove l'aritmetica lo consentirà. Del resto i rosa-nero insieme all'Empoli sono la squadra che tra le ultime cinque ha raccolto più punti nelle ultime cinque giornate, quattro totali, frutto di una vittoria e un pari. Tre, quelli messi a referto da Pescara e Crotone, solo due quelli maturati dal Genoa in caduta libera, sebbene distante ben nove punti dalla zona rossa e in attesa di vedere una reazione alla prima di Mandorlini in panchina. La ventiseisima giornata sarà uno snodo fondamentale per delineare le possibilità delle ultime in classifica nella seconda parte di stagione. Il Crotone riceve un Cagliari non imperforabile, il Pescara renderà visita al Chievo di Maran mentre quello tra Genoa e Bologna assomiglia ad uno spareggio per la quintultima piazza, senza contare che l'Empoli sarà di scena allo stadio ma al cospetto della Juve. Punti importanti saranno persi e guadagnati, ecco perché il Palermo al Barbera contro la Samp non potrà sbagliare, cancellando le venti lunghezze di svantaggio in classifica dai Doriani. Nestoroschi e Soci saranno chiamati alla gara perfetta e Diego Lopez sta già studiando le contromosse per imbrigliare Giampaolo. I dubbi del tecnico rosanero riguardano soprattutto l'attacco, dove al centravanti Macedone saranno affiancati altri due attaccanti uscenti dei ballottaggi tra Diamanti ed Embalo e Salai tra Icoschi. In difesa si tengono d'occhio le condizioni di Goldaniga che ieri ha svolto una seduta fisioterapica. Il gruppo tornerà a lavorare sul campo di Bocca di Falco oggi pomeriggio, visualizzando già l'obiettivo di giornata che non può esulare dalla vittoria per tenere vive le proprie chance e l'amore della piazza per la propria squadra.